Ci siamo quasi. Ad un anno dalla frana che spezzò in due la costiera amalfitana, l'intervento di risanamento della ferita sta per completarsi. E pubblicando questo video che mostra l'ultima ferita da rimarginare, ovvero via Annunziatella, il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, ha in qualche modo celebrato il risultato, ottenuto in tempi celeri se si considera le difficoltà di intervento al lavoro legate non solo alla frana in sé, ma anche al fatto che si trova in costiera amalfitana. Domani ricorrerà un anno dalla frana che ha colpito il paese al centro della costiera amalfitana e la stradina pedonale di via Annunziatella, parzialmente distrutta dal crollo, potrà finalmente essere riaperta. Negli occhi di tutti restano le immagini inquietanti del crollo quando dal costone roccioso in località Vallone si staccò una gigantesca quantità di materiale lasciando appesa nel vuoto la stradina. Per salvare la famiglia che vi abitava fu necessario chiedere l'intervento di un elicottero, ma questa oggi è già storia vecchia. La pagina è stata voltata grazie ad un tempestivo intervento che ha visto al lavoro da subito la regione Campania, l'Anas, il comune di Amalfi. Un lavoro quasi incessante che in pochi mesi, ad aprile del 2021, già consentì di riaprire anche la statale 163, chiusa fino a quel momento con tutte le conseguenze e disagi che possono essere immaginati. Sull'episodio resta ancora aperta un'inchiesta giudiziaria per fare luce sulle eventuali responsabilità.